Ho parlato qualche tempo fa dei pro del trasferirsi in Messico, ma giustamente qualcuno di voi mi ha domandato, Miki ma invece i contro quali sono? Perché giustamente non è che ci possono essere soltanto pro nel trasferirsi qui. E quindi eccomi di nuovo qui oggi per parlarti dei pro ma anche in realtà dei contro del trasferirsi qui in Messico. Iniziamo a vedere qualche pro per vedere se è cambiato qualcosa rispetto al video di qualche mese fa e poi veniamo i contro. Quindi il primo pro, il primo pro è sicuramente in relazione a quello che sta accadendo a livello globale e possiamo dire che il Messico è ancora un posto tranquillo. A parte infatti il primissimo lockdown del 2020, quindi proprio quando tutto è iniziato, non ci sono state in realtà particolari restrizioni o sconvolgimenti nella vita delle persone. Non sono stati infatti mai introdotti alcuni obblighi governativi inerenti a tale questione né alcun genere di pass. Ecco, anzi il governo ha dichiarato più e più volte che non è assolutamente sua intenzione introdurli né nel breve che nel lungo periodo. E veniamo poi al prossimo pro. Ecco, il prossimo pro questo invece non l'avevo citato nell'altro video. È nuovo perché proprio in relazione invece a quello che sta succedendo ora non lontano dalla nostra cara e amata Italia tra Russia e Ucraina. In merito a questa questione infatti il Messico si è dichiarato uno stato neutrale. Ho trovato un articolo a mio avviso molto interessante che tra l'altro è anche in italiano, quindi vi lascio comunque nei commenti il link se vuoi leggere questo articolo integralmente. Ti leggo comunque soltanto qualche pezzetto. Allora, anche il Messico si distacca dal clima di isterica russofobia che segna questi primi giorni dell'operazione speciale di Mosca in Ucraina. Il presidente del Messico ha dichiarato che, a differenza delle misure adottate da altri stati, il suo governo non imporrà alcun tipo di sanzioni alla Russia dopo l'invasione in Ucraina. López Avrador, che è il presidente appunto messicano, si è espresso contro qualsiasi tipo di invasione, specialmente quella promossa dalle grandi potenze. Non possiamo, infatti dice, essere a favore delle invasioni. Vogliamo che questo sparisca. È contrario al diritto internazionale. Non siamo d'accordo che un paese egemone ne invada un altro. Ecco, è sempre a riguardo, secondo me è utile comunque sapere, per avere comunque una panoramica generale, che il Messico ha anche ufficialmente appunto condannato l'invasione russa dell'Ucraina, ma non ha imposto alcuna sanzione alla Russia, quindi rimanendo completamente neutrale. Il presidente alcune settimane fa ha anche detto che i voli russi non saranno cancellati e che le frontiere messicane sono aperte per tutti i paesi, quindi assolutamente nessuno escluso. Anche l'INM, che è l'Istituto Nacional de Migration, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, annunciando che i cittadini, sia ucraini che russi, potranno comunque richiedere asilo politico qui in Messico. Ma direi che è tempo di alleggerire un po' l'atmosfera e di passare a un altro pro decisamente diverso, quindi passiamo questa volta al terzo pro. Allora, è stata stilata nel 2021, quindi l'anno scorso, una lista dei paesi dove gli espatriati sono più felici, in relazione comunque al lavoro, lo stile di vita e il costo della vita. E indovinate in che posizione è il Messico? È al secondo posto, lo supera infatti soltanto Taiwan. E sinceramente non mi stupisce neanche troppo il fatto che il Messico sia così alto in classifica. E questa statistica è anche interessante perché ci fa capire non solo che gli espatriati qui vivono in maniera felice, ma soprattutto che ci sono appunto molti espatriati. Quindi c'è anche la possibilità di conoscere, venendo a vivere qui, non soltanto la cultura messicana, ma anche le persone che da ogni altra parte del mondo, perché no, si sono trasferite come te qui in Messico. E magari potrai anche trovare delle comunità di italiani nella città dove magari avrai intenzione di trasferirti, più o meno ci sono in ogni città del Messico delle comunità di italiani. Bene, passiamo poi al prossimo pro. Il prossimo pro che certo può magari sembrare un po' banale, ma secondo me non lo è affatto. Quindi immagina di trasferirti a Taiwan, il primo della classifica della lista che abbiamo appena visto. Beh, dovrai sicuramente imparare il mandarino se vuoi vivere lì, che per quanto possa essere magari una lingua assolutamente affascinante, non sto dicendo questo, ma sicuramente magari non così facilmente intuibile per noi italiani. Mentre lo spagnolo invece è molto molto facile per noi, perché molte parole sono simili e ho infatti anche notato, andando a scuola di spagnolo, come sia io, sia un'altra ragazza francese e un brasiliano, apprendevamo con molta più rapidità rispetto magari ad altri studenti di nazionalità russa oppure di madrelingua comunque inglese in generale. Questo non perché in realtà noi eravamo dei geni, ma assolutamente no, ma perché le nostre lingue, quella spagnola, hanno comunque la stessa radice latina, quindi sicuramente in questo eravamo agevolati. Passiamo poi al prossimo pro, quindi il prossimo pro è la vastità di questo stato, la vastità del Messico. Che cosa intendo con questo? Intendo che il Messico è grande quasi quanto l'Europa ed è quindi direi praticamente impossibile che tu non possa incontrare il posto più adatto a te. Ti piace infatti il mare? C'è il mare. Ti piace la vita di città? Ci sono un sacco di metropoli in Messico. Preferisci l'area di montagna? Beh, magari non lo sai, ma anche in Messico ci sono le montagne e addirittura nevica. Ti piace invece una vita tranquilla in un posto ritirato? Ci sono un sacco di comunità, sia di locali, sia di espatriati, che anche in questo senso sono molto tranquille, quindi ecco, qualsiasi posto tu stai cercando, sicuramente in Messico c'è un posto, se magari non esattamente come voi tu, ma molto molto simile a quello che stai cercando. Bene, ma passiamo poi invece ora ai contro. Insomma, bello bello sto Messico, ma ci sarà pur qualcosa che non va qui. Ovviamente certo che c'è, non sto dicendo che il Messico è il paese dei barocchi, magari lo fosse, però non credo che ci sia un posto perfetto in assoluto. Quindi ci sono comunque dei contro, ci sono dei contro, ma ci sono anche dei modi per mitigare questi contro, vediamoli comunque insieme. Il primo contro secondo me è il fatto che rimarrai sempre uno straniero in un paese straniero. Che cosa intendo con questo? Questo è connesso secondo me al fatto che avrai sicuramente prima o poi un po' di nostalgia anche dell'Italia. In che modo magari lo potrai vedere? Lo potrai vedere ad esempio quando sentirai delle persone parlare in italiano per strada e ti girerai anche a guardarle, magari anche sorpreso, perché non sei più abituato a sentire così di frequente la tua lingua madre e sentirai magari in quel momento un po' di mancanza di casa. Come superare quindi questi attacchi, diciamo, un po' di nostalgia? Beh, con il tempo conoscerai comunque delle comunità italiane o delle persone italiane che vivono nella tua città, nel tuo paese e con cui magari puoi trascorrere del tempo, soprattutto quando magari inizierai a sentire un po' di nostalgia dell'Italia. Un altro esempio non solo del sentirsi ma anche di essere proprio visto come sempre uno straniero in terra straniera e anche ad esempio quando vai appunto al mercato devi stare sempre molto attento a non farti fregare perché anche qui se parli comunque benissimo lo spagnolo si vedrà sempre dal tuo aspetto che non sei un locale. E ovviamente incontrerai comunque molte persone oneste ma ci sono anche altre persone che ti vedranno sempre e comunque a prescindere da tutto come un turista da spennare. Però anche qui il rimedio c'è, col tempo comunque capirai come evitare le fregature anche in questo senso. Ok passiamo ora al prossimo contro quindi il prossimo contro è che quello che è in Italia è meglio che resta in Italia. Che cosa intendo dire? Intendo dire che i costi di spedizione dall'Italia al Messico sono abbastanza elevati e comunque in generale quando spedisci qualcosa, un pacco, arriverà però sì arriverà quando e come e magari quanto pagherai anche di dogana. Quindi non è così semplice e così economico. Qual è la soluzione? Beh la soluzione che ho trovato è che in realtà quasi tutti i prodotti che usavo in Italia li ho trovati anche qui più o meno allo stesso prezzo. Ecco tranne in realtà il caffè di cicoria che l'ho trovato in uno shop online messicano ma costa tipo cinque volte quello che lo pagavo in Italia. Quindi sì se anche tu bevi il caffè di cicoria portatene una bella scorta. Però ad esempio magari facendo un esempio che può interessare tutti. Sì certo magari i libri quindi se li trovi qui li puoi trovare ovviamente soltanto in spagnolo e magari qualcosina in inglese. Io ho avviato questo problema di non avere più i libri in italiano iniziando a leggere in queste altre due lingue quindi in spagnolo e in inglese che per carità può essere anche molto utile. Però ci sono alcuni tipi di libri soprattutto quelli magari di autori italiani che sinceramente proprio non mi va di leggere in un'altra lingua. E quindi che cosa ho fatto? E quindi ho comprato il Kindle. Ecco lo so benissimo che cosa stai pensando e sono d'accordo con te. Leggere comunque sul Kindle non ha lo stesso sapore di leggere un libro fatto di pagine vere ma almeno questo comunque mi permette di continuare a leggere i libri in italiano. Ecco in realtà non mi vengono in mente al momento altri prodotti che non sono riuscita a reperire qui in Messico quindi ti direi di sì. Ti direi che per il resto secondo me puoi comunque trovare tutto qui quindi portati ad avere soltanto lo stretto indispensabile. Bene passiamo quindi al prossimo contro. Ok sì il prossimo contro è l'allontananza dall'Italia e il fuso orario. Ovvio spatriare in Messico non è come andare in Svizzera. Andare e venire dall'Italia non è sicuramente una passeggiata e quindi non è che lo potrai fare ad esempio ogni mese. Non tanto neanche per il volo in sé che comunque a mio parere non è eccessivamente lungo. Stiamo parlando di circa 13 ore. Ma quanto per il jet lag che almeno per me è durato anche più di una settimana quando sono arrivata qui. Se poi vuoi anche lavorare online con l'Italia con società o magari anche clienti italiani e quindi con l'orario di ufficio italiano preparati a svegliarti un tantino presto la mattina perché quando qui sono le nove del mattino in Italia in realtà sono già le tre del pomeriggio. Ma anche a questo in realtà c'è un rimedio. Ho ad esempio una mia amica inglese che lavora con una società a Londra. Quindi lei si sveglia qui in Messico alle sette del mattino e fissa tutti gli orari delle videoconferenze all'inizio della sua giornata quindi quando sono le sette qui in Messico mentre a Londra è il primo pomeriggio. E poi nel resto della giornata smaltisce tutto quel lavoro che può fare comunque in autonomia. E anzi in realtà lei è abbastanza contenta di questa cosa perché finisce comunque il suo lavoro verso le tre del quattro del pomeriggio quindi comunque ha praticamente metà della giornata completamente libera. Ok veniamo comunque al prossimo contro. Spesso mi lamentavo in Italia della tempistica e della lentezza della burocrazia italiana e forse lo fai anche tu. Ecco credo che in quanto ha lentezza il Messico batte decisamente l'Italia. Il tempo qui sembra infatti trascorrere molto più lentamente non soltanto negli uffici pubblici ma in realtà anche nel privato. Ti faccio magari degli esempi per rendere tutto un po' più chiaro. Per finalizzare ad esempio la mia richiesta di residenza qui in Messico mi sono rivolta ad una consulente dell'immigrazione che quindi si è occupata di tutto, ha fatto tutta la precisione e non ho avuto problemi. Però in realtà so di altri espatriati che per lo stesso procedimento sono andati più a più volte nell'ufficio dell'immigrazione aspettando magari anche per ore in coda e alcune volte anche sotto il sole perché la coda era molto lunga e quindi sicuramente non è una cosa piacevole. E come ti ho detto questo problema della lentezza della burocrazia non c'è soltanto nel pubblico ma anche nel privato. Ad esempio infatti per aprire un conto in banca qui mi ci sono volute due intere mattinate in banca semplicemente per compilare dei moduli e poi anche ho aspettato una quantità di tempo a mio parere infinita senza capire bene il motivo quindi aspettando semplicemente che gli impiegati facessero sbrigassero le loro le loro faccende. Come fare quindi in questi casi? Beh una volta in realtà che lo sai ti puoi organizzare quindi tipo il secondo giorno che sono andata in banca mi ero portata appunto il mio amatissimo ma anche odiatissimo sto scherzando ovviamente mi sono portata il kindle e quindi ho potuto così leggere e passare il tempo. Oppure puoi anche semplicemente aspettare e imparare così anche a coltivare in maniera zen la pazienza. Ecco in questo senso credo che il Messico sia decisamente un'ottima palestra per imparare ad allenare un po' di pazienza che male non fa mai. Bene ma passiamo comunque al prossimo contro. Il prossimo contro è questa volta il cibo che in realtà nell'altro video l'avevo messo nei pro perché ero ancora nella fase diciamo di scoperta del nuovo mondo quindi scoperta anche della vera cucina messicana. Ecco col senno di poi a distanza di qualche mese lo devo mettere invece nei contro. Questo non vuol dire che adesso la cucina messicana mi fa schifo anzi no comunque mi piace. Quello che voglio dire è che comunque alla lunga secondo me può comunque stancare. Che cosa puoi fare per questo? Beh la fortuna è che comunque qui puoi trovare in realtà tutti gli ingredienti che trovi in Italia. Quindi non hai in realtà alcun tipo di difficoltà se che ne so hai nostalgia di una bella carbonara di fartela comunque a casa. Oppure puoi semplicemente anche mangiarla fuori perché i ristoranti italiani sono davvero praticamente ovunque in ogni città e in ogni paese. Ecco sì poi un altro contro che in realtà non era sulla mia lista ma mi è venuto in mente proprio ora che ti stavo parlando sono i rumori e la musica che vengono dal fuori. Infatti non so se sei riuscito a sentirlo anche tu dal video ma poco fa è passato anche un furgoncino che vende le bombole di gas. E lo so non è perché ho poteri di chiaroveggenza ma perché in realtà riconosco ormai la musica e il ritornello del suo megafono. Oppure puoi avere anche magari sentito una musica di sottofondo più o meno all'inizio del video. Ecco non era musica in casa mia ma perché oggi in realtà è domenica e quindi c'è ovviamente la messa in chiesa e nel mio quartiere. E anche qui stanno celebrando la messa che è una messa completamente cantata e ovviamente usano tanto di microfono e tante di casse quindi direi che sentirsi si sente abbastanza. Ecco questi in realtà sono soltanto alcuni due esempi che mi sono venuti in mente in questi non so 5-10 minuti di video quindi ti lascio immaginare durante il corso della giornata quanti magari suoni e rumori potrai sentire dalla strada magari anche se pensi che il tuo quartiero è un quartiere abbastanza tranquillo. Soprattutto direi anche la musica ad alto volume anche nei locali ad ogni ora del giorno e della notte. Questo perché proprio in realtà secondo me i messicani piace la musica, piace la musica ad alto, altissimo direi volume. Bene come fare anche per questo contro? Come fare? Allora soprattutto mi viene da dire come anche fare per dormire la notte. Questo secondo me può essere il problema più fastidioso per molti. Beh se sei comodo con i tappi delle orecchie perfetto è davvero la soluzione migliore. Io ad esempio purtroppo non li ho mai sopportati quindi ho dovuto trovare degli altri stratagemmi come quello magari di scegliere una casa che non ha la camera da letto che si affaccia direttamente sulla strada ma su un cortile interno. Oppure un'altra soluzione potrebbe essere quella di affittare la casa che magari vuoi affittare per un lungo periodo soltanto per qualche giorno per capire sia di giorno che di notte come quella particolare zona della città. Se ad esempio magari ci sono dei cani o anche dei galli che iniziano ad abbaiare o a cantare anche di notte. Se magari il tuo vicino di casa si sveglia presto una mattina per andare a lavorare e magari chissà per appunto svegliarsi può accendere la tv o la radio ad un volume direi abbastanza alto. Bene passiamo a un altro contro. Ecco questo in realtà secondo me spaventerà un po' alcuni. Allora diciamo che è meglio prepararsi prima di venire qui al fatto che qui gli insetti, non tutti eh, però alcuni insetti sono diciamo non proprio degli insettini come ci sono in Italia. Hanno delle dimensioni un po' più importanti. Ad esempio gli scarafaggi che qui sono le cosiddette cucaraccias. Ecco io sinceramente la prima volta che l'ho vista sono rimasta davvero un po' scioccata dalla loro grandezza. Non vado oltre comunque a raccontarti nei dettagli perché non voglio spaventarvi completamente. No vabbè sto scherzando. Comunque sì non è sicuramente eh una vista piacevole però anche qui ci sono dei rimedi che puoi prendere e non sono assolutamente un problema. Quindi non è che ci devi convivere per forza con queste cucaraccias. Anzi puoi eliminarle completamente. Come fare? Ci sono dei repellenti ovviamente anche qui dei repellenti naturali e ci sono anche delle ditte che con dei prezzi davvero davvero economici possono fare una completa disinfestazione. E anche qui se magari hai dei cani o dei gatti in casa o magari sei semplicemente e giustamente sensibile all'argomento anche per queste disinfestazioni ci sono delle ditte che usano dei prodotti completamente naturali. Un altro sistema può essere quello di scegliere una casa con delle zanzariere ad ogni finestra ovviamente. Oppure se non ci sono le metti comunque tu e vedrai che in questo modo quindi sia con le disinfestazioni sia con le zanzariere alle finestre non avrai assolutamente alcun tipo di problema. Bene quindi un altro anzi l'ultimo contro. L'ultimo contro è che il tuo corpo deve comunque adattarsi al cambiamento. Per quanto infatti tu possa essere magari felice ed entusiasta di trasferirti in un altro continente di iniziare così una nuova vita per il corpo comunque non è assolutamente una passeggiata. È anzi direi uno stravolgimento completo sia il fuso orario, il cambio di clima ma anche il cambio della tua alimentazione, il cambio delle abitudini magari anche il cambio di lavoro e quindi anche dei tuoi orari. Insomma stravolgerai completamente sia nel bene che nel male ovviamente spero più nel bene per te la tua vita e quindi anche il tuo corpo comunque avrà magari non subito però ben presto ti darà magari dei segnali per dirti che sta succedendo mi sento un po' strapazzato ci fermiamo un attimo ci ripigliamo? Ecco e sì potrei quindi in questo caso magari beccati la famosa maledizione di Montezuma oppure magari altri problemi che ho sentito tra i vari espatriati abbastanza comune sono magari dei problemi della pelle o dei problemi al sistema digestivo. Questi sono quelli più comuni. Personalmente il mio problema più grande appunto a livello fisico è stato quel e anche questo l'hanno avuto tantissime persone, tantissimi espatriati che si trasferiscono soprattutto in queste zone più calde dove sto vivendo appunto io nella penisola dello Yucatan è una grande perdita di capelli dovuta con ogni probabilità al caldo e il clima comunque abbastanza umido al fatto che si va praticamente sempre in spiaggia e poi anche l'acqua soprattutto di questa zona è molto calcarea quindi comunque alla lunga può danneggiare comunque ecco il capello. Bene direi che ecco sì abbiamo visto comunque tutti per ora anche i contro quindi come puoi vedere sì nel Messico non sono sicuramente tutte rose e fiori ma sinceramente secondo me mettendo comunque tutto sul piazzo della bilancia io sono assolutamente contenta della mia scelta e trovo anzi che i pro siano molto più forti dei contro. Se ti va magari fammi sapere che cosa ne pensi in un commento o magari se tu hai trovato altri pro o altri contro scrivimelo pure in un commento sarò magari felice di aggiungerlo. Ecco se poi hai trovato questo video queste informazioni utili ti chiedo magari di mettermi un mi piace e se magari anche tu come me stai pensando di trasferirti in Messico allora ti consiglio di iscriverti al canale e rimanere così aggiornato sui prossimi video. Io intanto ti saluto e ci vediamo così alla prossima. Ciao!